Si intitola I miei G o tradotto dal gergo inglese I miei amici, la canzone che nei giorni scorsi ha scatenato le proteste e l'indignazione dei residenti del quartiere di Sant'Orso di Fano. Scritta da Young Speed, trapper di Fossombrone di 22 anni, la canzone il cui videoclip è stato girato proprio nel quartiere fanese mostra, sulle note di una base trap, gang di ragazzi che tra fumogeni sgommate a bordo delle loro moto e lotte fanno passare il quartiere di Sant'Orso come un luogo pieno di criminalità e degrado. A prendere posizione è il vice presidente della regione Marche, Mirko Carloni, cresciuto proprio in questo quartiere in via Soncino. Nei giorni scorsi un rapper avrebbe girato un film in questa via, in via Soncino a Sant'Orso, dipingendola come un luogo di degrado ai margini dove ci sono le gang giovanili che si menano, che scappano davanti alla polizia. Io credo che non possiamo rimanere indifferenti di fronte a una strumentalizzazione di questo tipo. Io sono cresciuto qui in via Soncino insieme a tanti amici e tanti di noi hanno cambiato quartiere ma siamo legati a questo posto e devo dire che chi è cresciuto sotto questi palazzoni non è né un criminale, non ha fatto parte di nessuna gang quindi questa identificazione, omologazione è abbastanza banale, offensiva e vorrei lanciare soprattutto un messaggio. Sant'Orso non è un luogo criminale, i giovani che sono cresciuti e che crescono in questo quartiere hanno sicuramente una densità molto alta per errori anche urbanistici del passato, ci sono tante case però è un quartiere vivibile e credo che sia profondamente ingiusto lanciare questo messaggio anche perché è scorretto, anche perché crea un modello di riferimento sbagliato in stile criminale e io vorrei fare un messaggio ai giovani di Sant'Orso, non identificatevi in questo messaggio perché vi vogliono strumentalizzare, è un messaggio commerciale, cercate di vivere la propria vita, la vostra vita è di realizzare i vostri sogni senza farvi ancorare e appesantire da un'immagine che non vi appartiene perché questo non è un quartiere criminale. Il quartiere lo sa!